Ah, ecco, una domanda forse bella. Tu parli spessissimo di vuoto come elemento fondamentale del tuo processo creativo. A un certo punto dici anche che tu e Antonio con la vostra collaborazione ha funzionato perché in qualche modo avete condiviso nei momenti di vuoto. Del vuoto. Mi racconti questo tuo rapporto con il vuoto? Che cos'è per te? Come entra nella... Ma il vuoto potrebbe essere quello che dici tu, questo vivere in una bolla. Però è molte cose. Il vuoto è molto impegnativo, è pieno di cose. E' una dimensione dove tu da lontano vedi le cose, che nemmeno sai perché le vuoi e perché le fai, ma è semplicemente che le vedi e le vuoi portare fuori. E anche, diciamo, una ricerca potrebbe essere anche un rapporto intenso con l'interno profondo. È qualcosa che è pieno di tutto, un po' come l'universo, un buco nero. Che ti leva a qualsiasi impaccio quotidiano. Quindi tu stai dentro niente, stai dentro solo il tuo pensiero. Che poi neanche lo eserciti perché stai galleggi nel vuoto. È quell'attimo prima che ti viene l'idea. È quel momento in cui sei disperato e non sai che fare. Capisci che c'è qualcosa da fare nel ritmo, nella composizione e invece stai lì, lo guardi, stai nel vuoto e capisci senza fatica. L'importante è che questo vuoto sia sincero, sia vero. E c'è un lavoro che secondo te si fa, oppure noi abbiamo un contatto istintivo con questo vuoto, un contatto immediato che forse dobbiamo in realtà soltanto recuperare, fare una specie di lavoro di togliere più che meglio. Sì, certo. E togliere non è facile. Certo, facendo l'artista ti togli un sacco di cose da dosso e ti accorgi anche che quelle cose che tu ti togli da dosso le provano anche gli altri. Quindi comunque li ami sempre di più quelli che hai di fronte perché capisci che sono uguali a te. E sempre, ogni giorno che passa, io vedo negli altri lo stesso mio sgomento certe volte oppure la stessa mia gioia, lo stesso mio ridere. E questo mi consola come vedere un bel film, come andare a vedere una bella mostra e andare al teatro e trovare una cosa che mi stupisce. Ah, ecco, sì. Scusa, ma è stato un attimo di interruzione, la fibra... La fibra non funziona! Maledizione, domani. No, tra l'altro, proprio sullo stupore, che è proprio una parola magica. Eh, certo, sullo stupore. Allora l'ha fatta apposta la fibra. Non passa lo stupore. Non passa lo stupore, abbiamo scoperto.